I regali! E apriamo questi regali, apriamo questi regali! I regali, me ne sono dimenticato! Ma come te ne sei dimenticato? È il giorno del mio complello di scordi i regali, Al! Ma che testa c'hai? Maria, che c'è qui sotto che mi dà fastidio? Cosa c'è? Eee, lo sapevo! E che cosa sarà mai? Un profumo? Non hai bisogno tu di profumo, avanti! Un paio di scarpe da tip tap? Ma se non sai ballare! No, non è vero! La mia pistola preferita, Al! Ma come facevi a sapere che mi piaceva proprio la pistola? E tu tre gusti c'hai! La pistola, le anfetamine e la torta di Melissa! Miggia, che bella, Al! Jack, Jack, ma che c'è qui sotto, Jack? E Johnny, smettila di fare la sceneggiata! L'ha già fatta Al, un regalo, no? E io l'ho capito! I colpi! Voilà! Eh? E che cos'è? È un libro, Jack! Il Caravaggio! Il pittore! Ci sono anche le tavole? Giovanili in cui sperimenta un nuovo uso della luce, Body with Fruits! Sei contento? Ti sembro scontento, Johnny? Minchia, Caravaggio! Caravaggio, Jack! Sì, sì! Al, comunque! Grazie per questo regalo che è meraviglioso! Jack, digli che ti piace! Sì, Johnny, mi piace, mi piace, mi... Senti, ma ha i colpi? Eh, i colpi, i colpi! Pensavo che li prendeva Johnny! Johnny? Eh, io ero indeciso tra i colpi e Caravaggio! E hai scelto il Caravaggio? Che compleanno di merda! Jack, ma che hai dietro l'orecchio? Qui, dietro l'orecchio! Un caricatore nuovo, nuovo! I colpi! I colpi! Dammi sti colpi! Non fare il cretino che vado in bestia, eh! E prendeteli! Buon compleanno, Jack! Grazie, amici! Che fai, Jack? Che fai? Johnny, ho guardato il libro di Caravaggio! E lasciami provare sta pistola! Minchia, quante volte ti ho detto che non si spara in casa, Jack? Cinque! No, sette!